Buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutte e tutti. Mi auguro che ci si senta, che voi mi sentiate. Ripeto, buon pomeriggio. In questo tavolo parleremo, nel senso che vorrò anche sentire soprattutto le vostre reazioni, degli insegnamenti dell'emergenza. Mi era stato chiesto un titolo, io ho proposto questo. Sono poche slide che ho presentato, quindi vorrei limitare le considerazioni a poche parole, perché mi piacerebbe vedere anche dalle chat delle vostre reazioni. Io inizio l'elenco degli insegnamenti e voi eventualmente proseguite. Ci tengo semplicemente a puntualizzare alcune cose, cioè che faccio dei ragionamenti ad un tempo in chiave pedagogica e in chiave mediologica. Penso che sia assolutamente necessario in una fase come questa avere una interpretazione il più possibile comprensiva, in senso tecnico, diciamo delle caratteristiche, dei diversi mezzi che noi utilizziamo. Comprensiva vuol dire non accettazione critica, ma proprio esattamente il contrario, vuol dire accettazione, inclusione e inclusione consapevole, dove dentro la consapevolezza c'è la considerazione anche dei limiti. Atteggiamento che io penso fondamentale nei confronti di tutti i mezzi di produzione e riproduzione della conoscenza, a cominciare per esempio dal libro, che ci siamo abituati a considerare come un luogo di sapere, incontrovertibile o almeno viene presentato spesso a scuola in quella chiave lì e invece, come tutti i mezzi, ha dei suoi limiti che bisogna conoscere perché esiste tanta parte di mondo e dentro il libro non entra. Per anni siamo stati lì a discutere libro-computer, adesso fortunatamente non ci si confronta più con questo sciocco problema, però abbiamo a che fare con una questione molto molto più complessa e cioè il rapporto appunto tra la scuola intesa come spazio fisico e materiale organizzata appunto per aule, per banchi, per cattedre, per corridoio eccetera e la scuola in rete che è tutto un altro medium, tutto un altro spazio, tutto un altro modo di agire, di vivere, di esistere, di pensare eccetera. Allora gli insegnamenti dell'emergenza sono appunto gli insegnamenti che ci viene dal fatto che da un giorno all'altro tutto il mondo scolastico è stato costretto dalle urgenze materiali di salute a trasferirsi a armi e bagagli in rete e lì ha cominciato a operare, a fare, a problematizzare, ad ambientarsi, a non ambientarsi, insomma ha cominciato a pensare e a scrivere, a scriversi e adesso forse è il momento di cominciare a identificare quelli che sono gli insegnamenti che ne sono venuti. Una prima mia considerazione è relativa a questo termine, guardate tanto ho messo soltanto immagini, è relativa a questo termine che ho preferito utilizzare un po' astratto, un po' quasi letterario, la colleganza, ecco la colleganza, proprio perché mi piaceva perché è proprio una cosa astratta, concettuale, di massima concettualizzazione, anche se è un po' barocca, la colleganza degli elementi, tutti gli elementi che fanno scuola e anche quelli che sono fuori della scuola adesso si trovano in un rapporto di colleganza, di collegamento tra di loro. C'è da perderci la testa di fronte a una situazione e non credo che rifiutare questa situazione, voglia dire o criticarla perché esiste, possa costituire una soluzione. Dentro a questa colleganza degli elementi che sono i rapporti tra i soggetti, tra i soggetti tra di loro, tra il soggetto con se stesso, tra il soggetto col suo esterno, col soggetto e gli oggetti, tra gli oggetti tra di loro, tutti i rapporti che fanno appunto della tematica fondamentale della conoscenza. Oggi la questione appunto della colleganza, cioè che tutto si tiene, che tutto si tiene. Allora come riesco a operare al di dentro di una situazione in cui tutto si tiene, in cui ogni cosa si collega all'altra, ogni soggetto in un qualche modo è integrato nell'alto, nell'orizzonte dell'altro. Insomma, un problemino non da poco. Ah, che bella la situazione in cui io potevo dire. Qui c'è il docente, qui c'è il libro, qui c'è l'esame, qui c'è la lezione. No, no, non stanno così le cose. Ed ecco perché abbiamo trovato un sacco di problemi in rete, perché lì appunto c'è la colleganza, piaccia o non piaccia. E altra questione, se c'è una colleganza, dato che la colleganza è qualche cosa, come dire, di dinamico, non è semplicemente, guarda, quelle due cose sono collegate e stanno così. No, quelle due cose, quei due elementi vivono. Sono elementi in un qualche modo biologici, perché il rapporto di colleganza li rende vivi, perché non è che un frigorifero di per sé è morto o vivo, è nel rapporto con chi lo usa che può essere morto e vivo. Quindi cosa ne viene? Che il contenuto della frigorificità è un contenuto dinamico. Quindi questo dal punto di vista della scuola comporta un problema non da poco, che bisogna avere a che fare con i saperi dinamici, con la dinamicità dei saperi, cioè il fatto dei saperi sono in movimento. Guardate, non è una questione detta così e vabbè. No, no, è una questione che praticamente colpisce al cuore il senso del fare scuola, perché si sente dire spesso, anche stamattina qualcuno l'ha detto, e comunque per esempio l'ha sostenuto più volte anche Baricco, che peraltro ha scritto delle cose molto interessanti riguardo dalla rivoluzione digitale, cioè quello che questi signori dicono è che la scuola si è fermata al Novecento. No, signori miei, no, perché il Novecento è proprio stato il momento dal punto di vista della filosofia del sapere, dell'equistemologia, in cui il sapere si è messo in movimento, in cui è stato messo in crisi proprio nei suoi fondamenti della fisica, la biologia, l'arte stessa, la musica, sono tutte aree che sono state ridefinite, cioè praticamente sono state ribaltate nel loro intimo, sono diventate un'altra cosa e quindi hanno messo in movimento un sapere che non è più quello statico. Noi ancora a scuola insegniamo un insegnamento statico che infatti si ferma all'Ottocento, come dire, è come se fosse proprio la filosofia, arriviamo a Deigel e poi dopo aggiungo dei capitoli, qualche cosetta in più, arriviamo all'Ottocento e poi aggiungiamo qualche cosa di Novecento, arriviamo alla matematica, sì sì, ma poi c'è la revisione, la critica dei fondamenti e vabbè appunto cosa ne viene dopo la critica dei fondamenti? Ne viene che forse bisogna ripensare il passato, cioè il Novecento mette in crisi il rapporto con i secoli precedenti, occorrerà fare una scuola che effettivamente sia Novecentesca, nel senso che è una scuola che mette in crisi i saperi stabili, cioè tipici dell'epistemologia ottocentesca e non è una cosa da poco, però è proprio quello il problema, è che è un problema che scoppia per il fatto che questo sapere movimento, questo sapere dinamico è diventato, prima che un sapere intellettuale, delle sfere intellettuali è diventato un sapere popolare, un sapere di consumo, cioè la rivoluzione del rapporto tra spazio e tempo è passata attraverso i fumetti, è passata attraverso la televisione, la musica rumore, la musica post tonale, la musica decafonica è passata paradossalmente attraverso il rock, attraverso le nuove sonorità della musica pop, insomma e allora con questo noi dobbiamo fare i conti, con la dinamicità dei saperi e l'altra slide che è un po' la sintesi, una parola chiave che oggi viene molto utilizzata quando uno deve fare un bel tema, un bel saggio, fare riferimento a questo termine piacevole, la complessità, ragazzi la complessità è tutt'altro un termine piacevole, è un termine drammatico, cioè complessità vuol dire che tu non arrivi mai a una risposta definitiva, vuol dire che tutte le risposte che tu dai anche ai test sono sbagliate nel senso che sono provvisorie, insegnare per esempio che le risposte ai test sono provvisorie nel senso che sono valide all'interno di un determinato contesto, cioè che la capitale dell'Italia è Milano se il contesto è relativo a quello che è avvenuto alla fine del secolo precedente quando si diceva, si parlava della Milano da bere, si diceva che era la capitale morale, allora se aggiungo il contesto in cui è significativo l'aggettivo morale, allora quella Milano è la capitale d'Italia, esempio stupido per farvi capire che bisognerebbe educare alla complessità, per educare alla complessità la faccio molto molto breve, bisogna tentare di ridimensionare tutti i termini peraltro importantissimi che voi trovate qui, che sono i termini fondanti la scuola centrata sull'insegnamento, la scomposizione, cioè l'impianto analitico, la capacità di distinguere, ad esempio del test, di scomporre, ribartire e quindi la possibilità di mettere il sapere in una sequenza, disciplinarlo, stabilire confini, chiuderlo, promuovere un atteggiamento di distacco, tutto questo è basato appunto su un sapere che è fisso e che deve essere fissato, va bene, questa è la scuola come continuiamo a pensarlo, ma il mondo esterno nel Novecento e poi con la rivoluzione del digitale ci ha messo dentro uno spazio di scuola, tra virgolette, scuola metafora, in cui prevale la dinamica dell'apprendimento, cioè una scuola apprendimento dove invece, vedete, ci sono altri termini che consentono di mettere a fuoco i criteri dell'aggregazione, quindi l'apertura, la riunione, l'auto-organizzazione, la combinazione, vedete, libertà, globalità, comunità, mobilità, partecipazione, pochi di questi termini, non a parole, ma concettualmente e materialmente sono presenti oggi nell'orizzonte della scuola, perché sono termini che hanno a che fare con le dinamiche dell'apprendimento e le dinamiche dell'apprendimento, signori miei, questa è una cosa molto grave, però dobbiamo prenderne atto, sono sempre più scisse dalle dinamiche dell'insegnamento, perché l'insegnamento è ancora fermo, ha un impianto, che prima sbrigativamente ho detto ottocentesco, in cui si rappresenta come unico garante dell'apprendimento, l'insegnamento scolastico è unico garante dell'apprendimento, mentre paradossalmente capita che proprio lì non si riesca ad apprendere o non si voglia apprendere, cioè non garantisca più l'insegnamento scolastico, disciplinato, organizzato, tutti i termini della slide di prima, non avviene più che questo garantisca l'apprendimento. Di qui il caos in cui siamo, però è un caos che deve essere energetico, cioè bisogna saperlo affrontare, bisogna immergersi dentro questa situazione per poter pensare ad una scuola che sia in grado di governare e di governarsi all'interno di questa situazione di complessità. Certo non potremmo risolvere il problema, diciamo vabbè mettiamo complessità, facciamo una materia che si chiama complessità e gli diciamo cosa significa complessità? Per domani leggimi queste pagine sulla complessità, come abbiamo fatto fin qui per esempio con tutti i termini, tipo creatività, facciamo un bel tema sulla creatività, mi raccomando però non copiate. Andiamo avanti altrimenti che poi diventa troppo lungo, non vado avanti, semplicemente questi sono i riferimenti se qualcuno proprio ci tiene a mantenere un rapporto con la cerchi di pensiero. Io per me direi che qui mi posso fermare e posso andare a vedere sempre che ci riesco se ci sono dei vostri interventi, anzi vi invito a eventualmente farli, nel caso non arrivino segnali io vado avanti per conto mio, però mi auguro che ci siano delle reazioni. Per ora non le vedo e allora in attesa che arrivi qualche cosa nella chat pubblica mi proseguo con una considerazione che può essere utile per chi ha seguito la mattina. Mi è stato fatto notare, al di fuori di questo contesto nostro, mi è stato fatto notare che stamattina urlavo. Nel mio intervento, diversamente dall'intervento di altri, ero abbastanza animato. Io ho risposto a chi mi ha fatto notare la cosa facendo notare che probabilmente inconsapevolmente avevo scelto la linea Sgarbi. La reazione è stata sì, vabbè, ma Sgarbi almeno dice sempre capre, 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 capre. Tu non l'hai detto capre. Allora quali erano le tue capre? Con chi ce l'avevi? Allora dico sinceramente così poi do la risposta a Antonio Saccoggio. Io ce l'avevo con me stesso e con il me stesso che ha fatto una vita, ho qualche annetto, sono tra l'altro quattro anni che sono fuori dell'università, quindi capite bene quanti anni ho. Bene, ho passato anni e anni dentro le istituzioni a cercare di cambiare le cose. L'animazione che vedevo stamattina, anche oggi pomeriggio, in tanti che sono intervenuti, c'è un'animazione del fare, del cambiare, del proiettarsi, che non si può non fare queste cose qui. Io l'ho vissuta tantissime volte. Comunque in due o tre grandi occasioni questo c'è stato e poi non è venuto nulla. Perché? Perché non è venuto nulla? Ebbè perché c'è una grossa resistenza al cambiamento. Quindi noi possiamo certamente fare delle cose, ma dobbiamo anche renderci conto nel fare delle cose quali sono le resistenze al cambiamento, che sono interne a noi, non sono soltanto esterne, sono interne anche alla parte politica a cui tu appartieni, sono interne all'istituzione stessa, sono resistenze pesantissime, fortissime. Ecco, e con queste dobbiamo fare i conti, perché per cambiare bisogna rompere, bisogna rompere qualche cosa, bisogna escludere. Pensate per esempio, adesso arriveranno dei fondi, arriveranno dei fondi per fare delle cose, anche in ambito scolastico. Che cosa escludi? Non che cosa includi, che cosa escludi? Cioè tu no, quella cosa lì no, assolutamente no, perché si finanzia quella cosa lì non cambia nulla. Eh, sarà una scelta mica da poco, sarà una scelta importantissima questa. Allora, questo è la ragione dell'animazione. Allora, posso leggere. La questione dei tempi e degli spazi è una questione che pone Antonio Sacoccio e che è stata attualmente anche sollevata con un appello che viene fatto girare. È una questione classica anche della gestione della scuola. Diciamo che i tempi e gli spazi coincidono all'interno dell'istituzione fisica a scuola. No? Perché lì c'è una coerenza tra l'orario, la divisione degli spazi e diciamo l'orario esterno, gli spazi esterni. Cioè è tutto calibrato, è tutto organizzato, come è stato detto, no? Da anni lo si dice, stamattina è ritornato anche il tema, è un'organizzazione tayloristica, no? Cioè i pezzi, singoli pezzi e poi alla fine la composizione di tutti i pezzi a carico del prodotto stesso, no? Deve diventare maturo, come si diceva in tempo, mettendo assieme tutti questi pezzi che sono stati costruiti in tempi definiti, in luoghi definiti e in modalità definite. Far saltare questo meccanismo vuol dire darsi altri tempi, vuol dire accettare accettare, accettare, e chi sta in rete, io ci sto nei social da 14 anni, a meno quello che dice Facebook, vuol dire accettare 24 ore 24, cioè accettare che tu sei sempre, in qualunque momento impegnato in attività di apprendimento, non di insegnamento, di apprendimento, cioè vuol dire, ma era anche prima così, perché lo studio il ragazzo lo faceva quando poteva o quando voleva, c'era il ragazzo che si svegliava alle 5 di mattina per ripassare, c'era quello che invece non lo faceva proprio e decideva che non doveva sprecare il suo tempo, c'era quello che invece si metteva lì dice alle 3 di pomeriggio, fino alle 7 devo fare queste cose e poi casomai invece che fare quelle ne faceva delle altre e ognuno si gestiva a modo suo il suo tempo. Adesso lo puoi fare ancora meglio perché questa gestione del tempo non è più individuale, può essere una gestione del tempo che ti mette a contatto con l'altro, perché anche le 2 di mattina mi può capitare che io trovo un amico che è presente in rete, stiamo facendo una determinata cosa, ci stiamo interessando in questo argomento, lì uno si offende, si dico senti ti posso dire una cosa, condividiamo l'apprendimento, che è una cosa assolutamente scandalosa per la scuola perché vuol dire allora che uno che tu ti appoggi, che quello ti copia, che dice beh, ecco il cambiamento. Altra considerazione che mi viene di Anna Maria Fratangelo, cosa ne pensa l'opportunità di fare test psicologici agli insegnanti per capire se hanno le competenze empatiche per relazionarsi con gli alunni, signori miei? Già prima ho fatto un cenno non proprio nobile al meccanismo del test, ci mancherebbe adesso ci mettiamo anche a fare i test psicologici, diciamo che il filtro per arrivare ad essere insegnanti va tutto ripensato, su questo certamente c'è da puntualizzare, però non con questi strumenti, può essere un filtro che opera all'interno dell'esperienza di scuola, cioè sempre più importante il tirocinio, sempre più importante uscire dalla logica della formazione accademica che è arrivata a dei livelli ormai molto, ma molto, ma molto, mi permettete, molto bassi, tutta disciplinarizzata dove non si connette nulla, nulla è integrato, dove nulla è vivo, tutto è morto, devi imparare manuali di psicologia, imparare manuali di pedagogia, poi dopo devi fare la matematica, però la matematica seria, e tutto questo per formare un maestro che poi viene, una maestra che poi viene messa direttamente in mezzo a questa situazione caotica di bambini vivi, che ti chiedono, che ti toccano, capisci che è un problema che va risolto alla radice, smontando una determinata università. Ecco il discorso di prima che dicevo, a qualche cosa bisogna rinunciare, se tu fai così io non ti finanzio più, tu devi cambiare, tu università, ma devi cambiare di brutto, devi cambiare profondamente, come spirito, come impostazione, devi far muovere non solo la testa, ammesso che tu riesca a farla muovere, devi far muovere le mani, devi far sì che la gente che elabora pedagogia entri nelle situazioni, le viva, le soffra, ecco perché è importante che poi quando andranno in aula, se ci andranno, quando andranno in rete, se ci andranno, siano nel loro ambiente, conoscono le dinamiche di quell'ambiente, non soltanto le sappiano interpretare perché il capitolo del manuale dice quella cosa lì, ma le sappiano gestire, ecco. lei sta toccando il punto dolente, dice Marcella Colombo, purtroppo molti, troppi docenti non vogliono cambiare, eh sì, ma guardate, non è che sono i docenti che non vogliono cambiare, non vuole cambiare il Parlamento, non vuole cambiare il Ministro, non vogliono cambiare gli intellettuali, gli intellettuali, ma vi ricordate cosa è avvenuto un mese dopo che eravate lì, eravamo lì più o meno disperati nel lockdown a far fronte ai problemi della didattica a distanza. Arriva l'intellettuale sul giornale importante che dice no, quella non è scuola perché la scuola è, la scuola è, capito? Quindi ce ne sono, insomma, di questioni da porre. Tra i nostri avversari, e io parlavo prima di un nemico interno, c'è anche una certa nostra aristocrazia intellettuale. Non gli intellettuali aristocratici, io stesso nella mia dimensione intellettuale sono aristocratico perché vengo da questa cultura, inevitabilmente vengo da questa cultura, così come penso che sia un'espressione di aristocrazia intellettuale e quindi pericolosa, qui la sto sparando grossa, di concentrare l'attenzione esclusivamente sul tema dell'alfabetismo. L'alfabetismo è un elemento fondamentale di promozione umana, ma non è l'unico elemento di promozione umana. Tutto ciò che non passa attraverso l'alfabetismo deve avere un suo valore, che dentro la scuola deve entrare. Cioè, l'alfabetismo, il muovere le mani non è qualcosa che dipende dall'alfabetismo. Gestire il proprio corpo, gestire le proprie emozioni, gestire la sensazione estetica legata al praticare situazioni piacevoli, di arte, di ascolto, di musica, eccetera, non è un qualche cosa che può passare esclusivamente attraverso la scrittura, attraverso la parola. Montessori, ecco, Montessori stamattina citavo Montessori, continuerò a citarla sempre, Montessori non Montessorismo, Montessori lei, ecco, Montessori il suo pensiero, con tutti i suoi limiti, un pensiero proprio di fine ottocento, ma che va contro quel modello scolastico e poi invece si è, come dire, si è realizzato, che è appunto la scuola dell'alfabetismo. La Montessori, come dire, è come se difendesse una scuola analfabetica, difendeva l'analfabetismo, cioè nel senso che diceva c'è l'educazione dei sensi che è prioritaria, c'è che bisogna imparare a usare il suono, imparare a usare l'immagine, imparare a usare il corpo, non è una cosa che passa attraverso l'intellettualismo del leggere e dello scrivere. Infatti lei entrò in opposizione con l'America, proprio per questo, entrò in opposizione anche con il fascismo, proprio anche per questo. L'educazione dei sensi oggi la sta facendo il digitale, i nostri bambini praticamente nascono col digitale incorporato. Il primo libro che gli diamo è un libro dove toccando suona, perché c'è dentro un micro chip che consente di far suonare quella cosa lì. Capite che è proprio tutto un altro mondo. Pensate a quello che è capitato stamattina, l'unico indippo tecnico che c'è stato è stato riguardare l'audio. Quindi quanto è importante questa cosa? L'audio è importantissimo, è ancora più importante del visivo l'audio, perché l'audio, come dire, è un qualche cosa che ha a che fare con il corpo, ha a che fare con l'interiorità, ha a che fare con l'espressività, ha a che fare con noi, col nostro essere, con l'umano, con quanto di più umano c'è nell'umano. La parola che suona, tutta la tradizione artistica, la performance, stamattina ne parlavo, tutto ciò che invece l'intellettuale… Pensate come hanno reagito i nostri intellettuali al Nobel dato a Dario Fo, una cosa di tanti anni fa che poi resta lì, resta lì. Pano, quello non è un intellettuale, è un teatrante, un teatrante. Adesso stiamo pagando, stiamo pagando questo fatto, perché lo stiamo pagando? Stiamo pagando perché i nostri ragazzi sono più là che qua, sono più dentro quella dimensione per via del digital, dei videogiochi, di questo mondo che adesso ce li ha presi, giustamente, perché non poteva non fare diversamente. E noi restiamo lì, chiusi, dentro la nostra scuoletta, dentro la nostra università, tutta bella posto, con tutte le cose di orari ben definiti i titoli di orari, di fronte a un mondo caotico, di fronte a un mondo in movimento. Noi pensiamo di stare lì per le fermi a definire questo, quest'altro, quest'altro, quest'altro ancora. No, no signore, qua bisogna sporcarsi le mani, la testa, le menti, i corpi, bisogna entrare dentro le situazioni, quindi bisogna accettare la sfida della complessità, che non vuol dire portare le cose a chiarezza, vuol dire accettare che qualunque soluzione che noi consideriamo chiara, praticabile, è limitata, è contestuale, ha un senso all'interno di un determinato orizzonte, il quale può cambiare da oggi a domani. E lo stiamo vedendo sul piano politico. Il grande insegnamento del Covid è il comportamento del politico, che vedete, non riesce a prendere delle decisioni, perché forse in una situazione così critica è difficile prendere delle posizioni definitive, devi prendere le posizioni provvisorie, quindi qui lo dico e qui lo nego. Necessariamente, bisogna fare i conti con questa situazione. Ma chiaramente mi direte, ma una volta che la porto a scuola, come faccio a dire qui lo dico e qui lo nego? Come faccio a valutare? Vado avanti. Semplice osservazione sul titolo, gli insegnamenti, gli insegnamenti, non insegnanti dell'emergenza. Un paragone, non so, sarebbe bello andare a vedere, non mi ricordo, avevo scritto gli insegnanti? Non so. Io avevo detto gli insegnamenti, però vediamo, dopo andremo a verificare. Un paragone probabilmente troppo distante con chi in prima persona ha vissuto momenti veramente difficili nei mesi precedenti, chi scrive un insegnante di laboratorio. Io parlo allora da ex insegnante. Certo, non ho avuto il Covid, non ho avuto negli anni passati, però ho avuto grossissimi problemi a tentare una didattica di tipo nuovo, a integrare il digitale all'interno degli spazi, a modificare le modalità di verifica, a contrappormi allo standard, poi fai lezione e poi andiamo a fare il test ed è tutto risolto. Bene, diciamo sono andato sconfitto in questa mia pratica. Ho cercato di costituire quelle che ho chiamato anche per la scuola delle zone franche. In parte ci sono riusciti, in parte sono andato assolutamente sconfitto, perché cosa intendo per zona franca? Intendo delle aree, appunto anche laboratoriali, dentro le quali non vigono i principi della burocrazia e dell'amministrazione scolastica in senso stretto. Cioè dove non ci sono discipline, dove non ci sono orari a priori, dove non ci sono divisioni per età in modo definito, cioè nei luoghi dentro i quali si fa esperienza libera di aggregazione di apprendimento. Non ce ne sono, o meglio ce ne sono alcune, ma sono molto sparse nel nostro paese, però l'importante è che ci siano, perché esistono delle esperienze di questo tipo. Forse è impossibile che diventino sistema, perché per poter diventare sistema bisogna che si affermi un altro tipo di fare scuola. Questo potrebbe essere un processo dal basso, però ci vorrà molto tempo, a meno che, come spesso o come talvolta succede, non ci sia un tracollo, cioè non ci sia un salto di qualità nella consapevolezza collettiva, il riconoscimento che così non si può andare avanti. E quindi come portare la vita all'interno della scuola, ho cercato di dirlo anche. La vita all'interno della scuola è quella connettività tra le cose di cui parlavo all'inizio, cioè la capacità di connettere, di connettersi, di connettere i soggetti con gli oggetti, gli oggetti tra di loro, i soggetti tra di loro, in un meccanismo direi quasi orizzontale, cioè avere una visione orizzontale del sapere, dove l'elemento fondamentale è riuscire a integrare le cose più che approfondirle, più che andare in profondità. Perché la profondità va bene, ma ti toglie l'orizzonte. Più vai in profondità, meno vedi le cose. Mentre oggi è fondamentale invece vederle le cose, quindi vederle anche un po' dall'alto, cioè per vederne di più, per riuscire a vedere, per riflettere appunto su questi benedetti e maledetti collegamenti. Pensate, è un problema, ecco, se volete anche un problema della psicanalisi, come riuscire a mettere assieme dei frammenti, dall'inconscio, esiste anche l'inconscio collettivo, l'inconscio culturale, che ci viene fuori continuamente attraverso la televisione, i media, i social, eccetera, da cui emergono a volte, attraverso un lavoro che bisogna fare, degli elementi di conoscenza che vanno organizzati, perché quegli elementi di conoscenza poi diventano un sapere costituito, diventano una norma e quindi dall'essere si arriva al superio. La scuola sta in mezzo, dovrebbe aiutare a costituire una sorta di superio intellettuale, ma non può ignorare il fatto che sotto c'è tutto questo magma di movimento di cui ho parlato prima. Mi si dice che questo, della scuola tradizionale non salviamo nulla. No, ma nel momento in cui si dice questo sì, questo no, qualche cosa devi certamente salvare della scuola tradizionale, io, figuratevi, penso ancora che sia fondamentale per la cultura di base avere un approccio serio, molto importante, ma contemporaneamente anche leggero e divertito, con la dimensione letteraria. Ma non è il manuale di storia della letteratura che mi dà quell'approccio, no? E quindi probabilmente dovrò fare una scelta, cioè dovrò, come sosteneva già Calvino, Guitaro Calvino, dovrò, e come avevamo sostenuto ai tempi della commissione dei saggi di Berlinguer, dovrò fare in modo che i ragazzi leggano i testi più che sappiano le annotazioni, no? E quindi leggere i testi vuol dire anche, per esempio, leggere ad alta voce, vedete il suono, vuol dire fare teatro, vuol dire prendersi i tempi necessari, vuol dire non sapere tutto della letteratura, della storia della letteratura, ma invece godere di delle letture mirate. Cioè non è necessario che io leggo tutti i promessi sposi, che leggo tutta la Divina Commedia, può darsi che sia più utile leggere per bene e con spirito partecipativo, mettendoci dentro proprio tutta la propria umanità, anche soltanto un canto, anche soltanto un capitolo, ma lo si legga, come dire, per bene, cioè con presenza, ecco, non facendo tutto mediare dall'apparato di note, tutte quelle cose che ci sono sotto, no, no, il testo, il testo è un testo, Dante, è un testo di una cultura orale, che si ascolta, impara a leggere in modo tale che altri che ascoltino, ma che cosa capiscono? Capiranno il suono, capiranno il ritmo, capiranno tutte cose che si possono fare bene con il digitale, che si potevano fare anche prima e regolarmente non si fanno, ma che si dovranno fare e si faranno meglio proprio attraverso il digitale, perché uno può esercitarsi, riascoltarsi per ascoltare gli altri, si può giocare molto, ecco, su questo. Insomma, il senso è di mettere in gioco il sapere scolastico, mettere in gioco vuol dire non annullarlo, anche quello tradizionale, vuol dire metterlo in gioco e quindi decidere volta per volta su che cosa investire e che cosa invece disinvestire. In questo momento, io credo, intendo per momento la necessità che prima o poi diventerà, come dire, pratica di tornare alle scuole, all'aula, bene, in questo è il momento in cui cominciare a sollevare il problema dell'investimento e il disinvestimento. Che cosa è importante salvare della scuola dell'Ottocento, cioè della scuola del barone Casati, che poi Gentile ripropone, e che la scuola Italia Repubblicana non ha saputo smantellare, e che cosa invece deve essere il frutto di un novecento ripensato e trasformato in risorsa fondamentale di apprendimento. L'educazione all'immagine di cui parla la Giul Merenda, che appunto è insegnante e regista, sottolinea il fatto che poi questa educazione all'immagine, io aggiungerei educazione al suono, presenta molti, 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 molti problemi. Certo, dentro quel tipo di struttura, dentro quel tipo di impianto, dove si fa educazione al suono? Nella scuola montessoriana sì, si faceva, ma nella scuola primaria, non montessoriana, dove si fa l'educazione al suono? Io a questo punto fare una domanda, figurate non solo, ma quella sarebbe la scuola che è più propensa a farla, se mai la si deve fare. È ovvio che più vado su, meno ha senso, almeno all'interno dell'impianto che conosciamo, l'attenzione a quel problema. Più vado in su, meno c'è la presenza di quella dimensione, salvo appunto nelle zone franche dove si fa esperienza teatrale, per esempio. Non nelle scuole specifiche, ma nelle scuole anche così, scuole tecniche, scuole liceali, dove c'è un momento, come era un tempo nei collegi dei gesuiti, un momento di raccolta del gruppo e la produzione di un avvenimento, di un qualche cosa, appunto di un prodotto teatrale che poi viene proposto all'esterno. Ecco, c'è tutto da, come vedete, questo è un esempio di recupero della storia, meriterebbe di essere sviluppato, ma è un esempio che va al di là della logica delle discipline. C'è una conferma dell'importanza della lettura trasversale. Attenzione, sì, la lettura, ma non la lettura come studio. Forse ci sono dei momenti in cui la lettura diventa studio e va bene. Però ridurrei, veramente io ridurrei fortemente i tempi e i modi della lettura studio, perché comunque quelli non sono governabili dal sistema, perché sono governati semplicemente dall'individuo, il quale dice, vabbè, devo fare questo e quest'altro. E tutte le verifiche di sistema di quel tipo lì di lettura studio sono di superficie, perché di solito uno studente minimamente allenato alla lettura e ai test riesce a superare le verifiche anche se non ha capito niente. L'ho detta grossa, lo so, però vi assicuro che è così, cioè vi assicuro che se a quel ragazzo che ha superato il test provi a sottoporre una domanda che non è prevista da quello che lui ha letto. Se gli chiedi di applicare in un contesto diverso i concetti che sembrerebbe aver acquisito, vedrete che fine farà la sua votazione positiva al test. Perché il test è appunto lo strumento di verifica di un sapere codificato e fermo. Quindi studia da pagina a pagina, poi vieni qui e ti faccio il test. Ma da pagina a pagina è un frammento di sapere che presuppone che si segua un determinato itinerario e che quindi tutto il senso di quello che si impara stia in quel itinerario. Ma io potrei benissimo arrivare a quel concetto attraverso altri itinerari. E' proprio il primo teorico del macchinismo didattico, il primo che inventò le macchine per insegnare. Skinner, che era un comportamentista che trattava gli umani esattamente come dei piccioni, diceva vabbè fai questo, per questo, ti do il rinforzo e fai questo. Lui per primo dice, a un certo punto dice anche, di fronte all'esigenza di linearizzare la matematica si rende conto che è impossibile. Cioè è impossibile mettere in una linea, in una sequenza appunto lineare il progresso della conoscenza matematica. A un certo momento nascono delle ramificazioni, cioè nasce un'esigenza di rete e se vado di là che cosa perdo? Se prendo la direzione a sinistra invece che la destra che cosa perdo? Ecco il problema, cioè non è possibile linearizzare il sapere, se il sapere lo si considera qualcosa di complesso. Mi spiace che Miriam Campus dice che non si riesce a sentire una frase intera, perché l'audio arriva singhiozzo. Spero che nella registrazione, come lei dice, l'audio funzioni meglio. Sì probabilmente, ecco è un esempio di complessità questo. Cioè noi quando siamo in rete non sappiamo mai una determinata disfunzione da che cosa dipende. Può essere locale, può essere super locale, può essere generale, super generale. Vedete? Ecco questa è una grossa complessità. Ma è la complessità della vita. È la complessità a cui devo preparare i miei allievi, perché dovranno affrontare questa complessità. La loro vita sarà dominata da questa dimensione di complessità. Quindi avranno bisogno di saperi che di per sé siano testimoni di complessità. Ecco allora che la linearità può servire, può essere utile, la testualizzazione può essere fondamentale, ma in zone specifiche. In altre zone sarà necessario invece allenarli a questa epistemologia della complessità, a questa filosofia della complessità. Ecco la questione di fondo. Non è una questione che è molto sentita. Perché non è molto sentita? E qui torno alla premessa, perché stamattina ero così arrabbiato. Perché le resistenze sono fortissime? Vedete che si parla tanto di tecnologia, però qualcuno che ti dica guarda che forse anche quello che insegni non è giusto. Perché? Perché il mondo nel giro degli ultimi due secoli è cambiato. Ma allora quello si dirà, ma allora cosa vuol dire? Che io devo fare una scuola tutta appiattita sulle professioni? No! Io devo fare una scuola che permetta a questo soggetto di entrare in questo mondo con consapevolezza. Che vuol dire con consapevolezza? Saperlo gestire, saperlo affrontare questo mondo nelle sue luci, ma anche nelle sue ombre. E non è certo la soluzione, quello di proiettare su questo mondo le sicurezze del passato. Nel passato noi avevamo tantissime sicurezze e la nostra scuola è ancora costruita sulla filosofia della sicurezza. Quello che è giusto è quello che è sbagliato. Perché questo con la fisica è questa cosa qui. Vuoi sapere la storia? È così. Prima guerra indipendenza è quella. Quali sono le date? No. Fare storia vuol dire anche avere consapevolezza della varietà, delle rappresentazioni, della non univocità dell'ordinamento temporale. Se non su alcune date fondamentali che sono effettivamente spartiacque, così come 2020 sarà una data storica, perché rappresenterà uno spartiacque. Mi auguro anche per l'università e per la scuola, cioè un momento in cui sono saltate le sicurezze. E quindi è stato necessario darsene delle altre, naturalmente più provvisorie, più disposte a fare i conti con il mondo che cambia, però comunque valide per sopravvivere e per avere un rapporto il più possibile sereno e costruttivo con il futuro. Ecco, io penso che, vedete, sono molto ottimista, penso che questo possa avvenire. Cioè che tutto il capre-capre-capre che riguarda la nostra resistenza possa essere messa in discussione proprio dal fatto che usciti da questa situazione ci troveremo impoveriti, perché avremo meno risorse, ma arricchiti di esperienza. Arricchiti di questa esperienza che stiamo facendo. Anche soltanto quella che stiamo facendo oggi con questa giornata enorme, che vale mesi e anni di discussioni, densa appunto di idee, densa di considerazioni, che proprio perché sta in rete e è stata testualizzata potrà essere rivista, analizzata, scomposta, integrata, aggiornata, modificata, potrà essere lavorata. Allora è chiaro che qualunque attività di formazione universitaria o di formazione dei docenti non potrà prescindere da questo tipo di esperienza. Non si potrà più dire, ah però vuoi mettere la presenza, andiamo tutti a Bergamo? No. E cosa vuol dire essere presenti lì? Vuol dire nella prospettiva del futuro che quando fai la presenza ha un vero senso fare la presenza. Nella presenza fai cose che non puoi fare a distanza e a distanza come adesso, invece fai cose che assolutamente non puoi fare a presenza, perché anche questo dialogo che noi stiamo facendo in presenza non si può fare. Ecco, nella dinamica con cui è possibile farlo qui. E quindi io credo che questo segna, è un piccolo esempio, ma segna un passaggio. Non si torna più alla situazione di prima. Naturalmente in questa altra realtà dovremmo fare i conti, dovremmo vedere qual è la sua economia, quali sono i suoi costi, ma dovremmo accettare che abbia questi grandi valori, anche questa enorme validità dal punto di vista psicologico, dal punto di vista culturale. Cioè il corpo, ho fatto tutto un discorso prima sul corpo, lo muovo, io mi muovo solo quando ha un vero senso muoverlo. Se, come dire, vengo messo nelle condizioni di operare con il corpo, posso fare delle cose anche con le mani. Altrimenti, ma per quale ragione io devo spendere delle ore per arrivare in un luogo e poi mettermi lì, fermo e fisso ad ascoltare una discussione e neanche poter, una lezione, e neanche poter interagire perché chiaro che si è in 50 e uno solo che parla, i 50 non possono interagire come invece possiamo fare. Quindi questo è il succo del discorso che mi avete aiutato a fare. Potrei dire come chiusa, perché immagino che se non ci sono altre considerazioni la giornata è stata lunga e penso che possiamo salutarci. Direi che come bella immagine finale, adesso poi c'è qualche di un altro, diciamo quasi finale, c'è la considerazione che quando si è in rete è tutta una sorpresa. E sì, sì, è vero, è vero, quando si è in rete succedono le sorprese, nel bene e nel male, ma il mondo è fatto di sorprese ed è bello giocare, mettersi in gioco proprio attraverso le sorprese. Vedete la differenza di fare scuola in cui tutto è definito, la burocrazia. Era il modello austriaco, austro-ungarico, alle nove di mattina in tutte le scuole io so che cosa si fa. E invece il modello questo appunto dell'avventura, dell'imperia, del giocare e del mettersi in gioco, che è il modello della scuola, lo dico perché è una nostra bandiera, della scuola montessoriana, della montessori, la scuola montessoriana è un'altra cosa, che però la montessori porta anche, negli ultimi, nelle sue ultime interventi, porta anche a livello di scuola del preadolescente e dell'adolescente, mettendo in crisi l'idea appunto di una scuola dell'alfabetismo. Vediamo gli altri due interventi, grazie per le riflessioni, i suoi consigli e i spunti pensieri che ci ha dato, speriamo vengono anche raccolti da chi è al verticello Stato, ma come si fa? Questo non è un problema. Usciamo da questa logica che sia un ministro o una ministra, che sia un Parlamento che può affrontare seriamente queste cose e dire da domani si fa così. No, 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 togliamocelo dal testo. L'unica possibilità è che noi ci si muova, noi tutti, ognuno per la parte sua, deve sfidare questa situazione, non deve aspettare lì fermo che arriva il ministro illuminato. Ne abbiamo avuti nel passato i ministri illuminati, sono stati segati, e anche i ministri, sono stati segati, sono stati messi nelle condizioni di non poter agire. Scusate, dato che me lo chiedete, sono costretto a dirlo. Strumenti che abbiamo insegnanti, vorremmo cambiare la scuola, chi come me dovrebbe una scuola diversa ovunque, non solo le mie classi nelle migliori, cosa può fare? E l'ho detto. Cosa deve fare? Deve puntare sull'apprendimento. Opporsi all'idea che la sua funzione è quella dell'insegnare, la sua funzione è quella di creare le condizioni perché lo studente apprenda, proprio molto pragmaticamente. E perché questo avvenga bisogna avere un'idea di qual è la cultura che permette allo studente di apprendere. Quindi devo fare i conti con le dinamiche dell'apprendimento di rete, devo fare i conti con un'altra filosofia. E qui veramente, lasciatemi aggiungere un ulteriore strale. Noi abbiamo da secoli un rapporto privilegiato, anzi per secoli ultimamente un po' di meno, un rapporto privilegiato con i cugini francesi, i quali hanno con noi scambiato esperienze politiche, a volte ce le hanno pure imposte, esperienze estetiche e artistiche che noi abbiamo certe volte pure imposto in ambito musicale e in ambito artistico. Ebbene quindi abbiamo un rapporto privilegiato, è evidente che anche nell'orizzonte europeo l'immagine storica della cuginanza Francia-Italia è ben solida. Allora mi chiedo ma per quale ragione tutta la letteratura pedagogica da decenni in Italia ha a che fare con una bibliografia anglo-americana, più americana che anglo-americana. Ma chi l'ha detto che quello debbano essere i nostri modelli? Qual dov'è la filosofia sottostante a quel modello? Che non è Dewey, che è un filone importante ma che resta molto limitato rispetto invece alla cultura oggi dominante a livello di ricerca, cultura americana a livello di ricerca. È una cultura poi anche in crisi tra l'altro per via del rapporto conflittuale con l'Oriente. Bene, noi qui abbiamo dentro di noi e vicino a noi invece una tradizione di filosofia dell'insegnamento, di filosofia dell'apprendimento che potrebbe essere fortemente recuperata e messa in gioco. Cioè noi dobbiamo, per esempio, prendiamo Morenne, 99 anni, ancora attivo, che scrive quasi ogni giorno dei tweet un po' diversi da quelli del già presidente americano. Bene, cosa dice Morenne? Morenne dice di sbarazzarsi di questo modello di scuola. Cioè di puntare ai saperi fondanti, che sono appunto le problematiche fondanti, che sono quelle del rapporto dell'umano col naturale, che sono quelle appunto dei nuovi orizzonti della comunicazione, di un sapere appunto connettivo, di un saper centrato sulla complessità. Ma non basta teorizzarlo, bisogna poi praticarlo questo. Ecco, questo secondo me può diventare una bandiera, un'indicazione che vale a tutti i livelli e in tutti i contesti. Naturalmente, pur che si sappia, che operare in questa direzione vuol dire trovare dei conflitti, vuol dire trovare delle fortissime opposizioni, però, come dire, alla guerre come alla guerre, cioè uno decide di farlo. Ecco, dopodiché stare lì fermi ad aspettare che arrivi il buon ministro, vi assicuro che produce, come dire, produce disagio, tristezza e ne abbiamo già abbastanza in questo momento. Cerchiamo invece di reagire facendo. Ecco, vi ringrazio, io a questo punto penso che sia finito il nostro tempo, il nostro incontro e io faccio tesoro delle vostre considerazioni, quello che mi avete detto, continueremo ad andare avanti così e non riusciranno a vincerci. Buona serata.